ciao a tutti stasera andiamo di Hard Rock anni 80, Hard & Heavy Hour anni 80 con questa Heisman Ibanez IC300 la chitarra di Paul Stanley nei Kiss lui ce l'ha tutta argentata con gli specchi rotti questo è il modello base diciamo sono attaccato al GCM Slash quindi suono molto rock vetroso Marshall testata e cassa ho un flashback delay in send return e davanti alla testata acceso il soul food overdrive che rende il suono leggermente più liquido utilizzo il potenziometro della chitarra e nient'altro per farvi ascoltare come negli anni 80 queste chitarrone dell'hard e nevi diventano anche ballads in molti successi e hits radiofomiche e e e Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.